Una buona giornata, ben ritornati. Siamo arrivati con Mattino 6, in questo sabato 21 ottobre siamo pronti come di consueto per andare a sfogliare i quotidiani di casa nostra ma anche le prime pagine dei quotidiani nazionali che trovate già in edicola per vedere quali sono le notizie che ci riserva questa giornata. Ovviamente nella prima parte spazio alle prime pagine cominciamo con i quotidiani regionali dunque con le quattro edizioni del centro. Partiamo con l'edizione di Pescara che apre ovviamente con la cronaca bimbi strattonati e tirati per i capelli. A Pescara una telecamera nascosta in classe ha incastrato la maestra arrestata. Poi ieri vi abbiamo mostrato anche il servizio, ve lo riproporremo ovviamente su questa vicenda che ha riguardato una scuola di Pescara. In alto la politica nazionale, scontro sul governatore, Banca Italia PD, Gentiloni, l'autonomia è un valore. Tragedia a Como, padre incendi a casa e si uccide, tre bimbe morte e una grave purtroppo. La foto notizia riguarda ovviamente la nostra regione, sbloccati i fondi la regione prova a ripartire. Con la norma a salvabruzzo aiuti anche ai bimbi con malattie rare come, e la vedete proprio il perché della foto, come la piccola Noemi Sciarretta. In Abruzzo vediamo che cosa rimaniamo sempre nella nostra regione, zoprofilattico il PM chiede l'archiviazione per il governatore Luciano D'Alfonso. In basso una notizia di sport, ma che purtroppo con lo sport c'entra poco. Calcio a 5 Pescara, doping positivo il portiere Antonio Capuozzo. Dall'altra parte della pagina, rimanendo sempre lo sport Pescara, ma non calcio a 5, calcio a 11, Zeman Cicara, contro Lavellino allo stadio Adriatico. E in basso, sempre a Pescara, cementificio no definitivo della regione, sempre a Pescara. Nuove nomine per i dirigenti del comune. Cambiamo edizione, vediamo quella sempre del quotidiano Il Centro, ma dell'edizione di Chieti. Sempre cronaca, ad esca ragazzine sul web, arrestato, giovane di Chieti, perseguita a una minorenne, pretende sesso e si indaga su altri 20 casi. Ovviamente la parte alta resta identica, così come la parte centrale di pagina, ma allora andiamo sulle cronache. A Lanciano, alla Sasi, 2.300 candidati per soli 67 posti di lavoro. A Casa Canditella, il sindaco Giuseppe D'Angelo, libero, ma scatta l'interdizione. A vasto, congresso PD, sfida 2, Pollutri, Lembo. Sotto la fotonotizia, due altri punti di interesse. Piani di emergenza, Movimento 5 Stelle, in partenza le diffide per 220 sindaci fuori legge. E poi la crescita rallentatore, secondo il dossier della Cisla Abruzzo. Più lavoratori sì, ma sono precari. Andiamo all'edizione di Teramo, sempre del quotidiano il centro. Stagione di prosa al Palatenda. Teramo, il piano di riserva di Comune e Riccitelli. La struttura che ospiterebbe la stragione di prosa della Riccitelli andrebbe nel vecchio stadio. Nelle cronache, la Camera di Commercio. Ora Teramo vuole la sede, scontro con l'Aquila dopo la fusione. E' sempre in provincia, stavolta di Teramo, a Giulianova. Il PM chiede l'inchiesta bis sulle tangenti. A Roseto, il Comune tira dritto sulla tassa di soggiorno. Chiudiamo le quattro edizioni con quella che riguarda l'Aquila e provincia, via le tre scuole di specializzazione. L'Aquila, il Comune, ratifica i tagli all'Ateneo su cardiologia, pediatria e neurologia. Andiamo nelle cronache a Vezzano, dunque ci sposiamo in Marsica. Mini market solidale per le famiglie e disagiate. Nella foto il vescovo Pietro Santoro, promotore proprio di questo progetto del mini market solidale. All'Aquila, pratiche al palo, genio civile, cerca dei tecnici. A Sulmona, la regione corre in aiuto del Caniglia. Cambiamo quotidiano adesso, vediamo la prima pagina del messaggero edizione abruzzese che apre con il lavoro perché l'occupazione, lo leggete, resta al palo. Il report della Cisle dell'economista Mauro. Non crescono i posti di lavoro nella regione, un netto divario tra le offerte delle multinazionali e quelle invece delle piccole aziende che sono in crisi. In alto, Chietis, stalking online e cyberbullismo scatta l'arresto per il molestatore. A Montesilvano invece Maria Falcone inaugura il parco dedicato al fratello Giovanni Falcone, purtroppo scomparso nel 92. Per lo sport, Pescara battere l'Avellino per avvicinarsi alla vetta. Oggi Biancazzurri in campo, lo stadio Adriatico contro gli Irpini, allenati da Walter Novellino. Rimaniamo in pagina per vedere di spalla, nomine IZS chiesta l'archiviazione per D'Alfonso. Invece a Teramo l'Atria continua lo sciopero, anzi viene definito uno sciopero senza fine. L'azienda non accetta trattative. E poi si torna sul fatto di cronaca, strattone e tirate di capelli, il terrore in quella classe, le accuse alla maestra Di Zanni, ora ai domiciliari. Ovviamente siamo a Pescara, ma c'è chi la difende. A Lanciano invece, aggressione squadrista, scattano tre denunce. In basso invece a Pescara rinasce Guerino, ex ristorante mito della Riviera Nord. Andiamo in provincia di Teramo per leggere la prima pagina della città che apre con questo titolo, l'IZS porta bene. Tre grandi notizie in un solo giorno per il futuro dell'Istituto di ricerca. Leggiamo perché porta bene. Allora, la prima è perché è stata già chiesta l'archiviazione per D'Alfonso e altri otto per la nomina del direttore generale Mattioli. L'emendamento Tancredi stabilizzerà 140 ricercatori precari storici dell'Istituto e il giudice del lavoro salva altri 34 posti a rischio di licenziamento per il concorso del 2002. Queste sono le tre buone notizie per cui viene giustificato appunto il titolo, l'IZS porta bene. In alto, Lanciotti, non abbiamo svenduto l'ente camerale, la fusione della Camera di Commercio con l'Aquila. A Giulianova, per la politica il colpaccio, Gianluca Grimi passa con i fratelli di Morra. A Roseto si torna a parlare, come abbiamo visto nel quotidiano precedente, di tassa turistica. Gli operatori chiudono la porta in faccia al sindaco. Per la cronaca, frontale sull'Adriatica, 26enne gravissimo, scontro tra due auto alle 6 del mattino in via Veneto ad Alba Adriatica. E poi, in basso, altre tre notizie. Vigili del fuoco, appartamento in fiamme a San Nicolò, nonna messa in salvo dai vicini di casa. Per il decreto sisma, zona franca e art bonus, vademecum dell'ordine dei commercialisti e dell'Anci. Poi la guerra comunale, ipotesi pala San Nicolò o teatro tenda, per la stagione di prosa della Riccitelli. Chiudiamo con le prime pagine della nostra regione e vediamo le prime pagine nazionali, ricominciando dall'inizio, dal Corriere della Sera, che apre con la contromossa di Visco. Il governatore è pronto a reagire e per ora non pensa di farsi da parte. Il caso, Gentiloni, rispettare l'autonomia di Banca Italia. E Renzi che dice, nessun problema è PD-Governo. Sono gli equilibri fragili in questo senso. Questa è l'apertura a centropagina del Corriere della Sera, che poi fa un focus anche sulla guerra in Siria. Rovine, trappole, poi solo il silenzio. Il ritorno a Raka liberata dall'Isis. La Repubblica, sempre sulla vicenda Banca Italia. Banca Italia, ora Visco, è più forte. Il piano di Gentiloni, per confermare il governatore, è soluzione che piace anche alla BCE. I ministri Calenda e Pinotti contro Renzi, sempre più lontano dagli altri big del partito democratico. La foto notizia, solo gli alberi salveranno le città dallo smog. Far rinascere le foreste distrutte eliminerebbe l'inquinamento di 650 milioni di auto. E poi in basso una notizia, una beffa che vale un miliardo. Nella bolletta, ogni 28 giorni, alle società telefoniche, multa di appena un milione. L'apertura del messaggero, edizione nazionale. I conti nascosti del referendum. Domani è al voto Lombardia e Veneto. Obiettivo avere più fondi. Martina, ma così è secessione. Tra le regioni che pagano più tasse e ricevono meno dallo Stato, secondo il Lazio, quarto, solo quarto il Veneto. E poi il caso Banca Italia, anche qui, la rosa di Gentiloni, Travisco e gli interni. L'assalto dei baby rom nella fotonotizia, il racket di Roma, il giudice Simonetta Matone, servono indagini più ampie. Libero. L'autonomia fa paura ai parassiti abituali. Manovre sporche per screditare il plebiscito. Quelli contrari ai referendum in Lombardia e Veneto sono talmente terrorizzati che parlano di brogli. Ancora prima che si voti sono in malafede. In realtà vogliono staccarsi dalla tetta del nord. E poi la tragedia di Como, la strage della disperazione. Il marocchino disoccupato uccide se stesso e quattro figli. Cambiamo giornale. Il fatto quotidiano. Che sorpresa! L'atto d'accusa a Visco l'ha scritto La Boschi. Altro conflitto di interesse. Risolto il giallo. In Senato 160.000 firme a grasso. Rosatellum. Discutere evitando la fiducia bis sulla legge elettorale. Poi a centropagina. Attenti a guardare i video jihadisti. Rischiate la galera. G7. Londra propone 15 anni di carcere per evitare la diffusione dell'estremismo. La stampa. Scontro sul referendum del nord. Il PD attacca. Rischio Catalogna. La questione fiscale agita la vigilia del voto in Lombardia e Veneto. Il ministro Martini accusa la Lega. Salvini dice non vogliamo uscire da niente e da nessuno. Sul caso Banca Italia il piano di Gentiloni su Visco riconferma con condizioni. Ma resta forte la pista della successione interna. Alta tensione tra Calenda e Orfini. Sul Governatore. La fotonotizia in volo con i Top Gun che salvano i bambini. Reportage a bordo del Falcon del 31esimo stormo specializzato nel trasporto di piccoli malati. Il tempo. Così si può violare il referendum. Parla l'hacker che si è introdotto nel sistema di voto elettronico della consultazione al nord. Sicurezza a rischio benché i tablet siano costati 23 milioni. E poi ci sono tanti altri sprechi. La fotonotizia Giovanni XXIII. Le microspie nel confessionale Padre Pio senza pace spoglie sempre in giro. Se il povero, l'editoriale di Veneziani, se il povero frate viaggia più da morto che da vivo. Il grottesco tour della salma di Padre Pio. In basso, ecco le intercettazioni di Casa Tulliani. Cambiamo quotidiano. Il sole 24 ore. Italia-Germania dalle imprese allarme per la stretta sugli NPL. Poccia-Vogliamo costruire un'industria europea prima al mondo. E poi si torna sulla questione Banca Italia. Gentiloni, rapporti ottimi con il PD, ma l'autonomia di Banca Italia rimane un valore. Altra notizia. Ridotto il bonus formazione 4.0. Lo sviluppo economico contrario ai limiti di accesso. Fondazione privata per la Cyber Security. Il giornale, le verità sulle banche. La sinistra ha lucrato sul credito e ora ha paura delle indagini. Caos Banca Italia, slitta e ritorno in borsa di Monte dei Paschi. E poi le elezioni del sindaco, prof di occupazioni De Magistris, sale in cattedra al Leon Cavallo, sindaco di Napoli. Le toghe tornano ad attacco, PM ossessionati, assolti da riprocessare per la procura di Milano. Non basta l'appello. E poi per il referendum parla Maroni che dice votiamo sì, la Lombardia trainerà l'Italia. Il mattino Berlusconi ritorno al 94. Cavaliere Show, meno tasse, pensione alle mamme, basta dittatura giudiziaria davanti ai giovani industriali a Capri. Come 23 anni fa devo essere in campo? Noi imprenditori, dice, siamo degli eroi. Referendum al nord, in ballo i fondi per il sud. E poi sulle nomine di Banca Italia, la resistenza di Visco, Gentiloni, Renzi e una tregua armata. Il manifesto Autoshock. 9 milioni di morti l'anno provocati dallo smog. L'allarme è lanciato da 47 scienziati sulla rivista Lancet. Mentre l'industria dell'auto sacrifica la vita sull'altare del profitto, le città soffocano a Torino e Milano, emergenza e inquinamento fuori controllo. E oggi a Roma contro il razzismo, manifestazione nazionale per i diritti dei migranti e per lo IUS soli. Il secolo XIX, quotidiano genovese, battaglia sui referendum, toti dopo le politiche, anche la Liguria al voto per avere più autonomia. Domani Lombardia e Veneto alle urne. L'allarme del PD che dice che c'è un rischio di una deriva catalana. L'avvenire è un mercato civile. Il Papa, le diseguaglianze non sono una fatalità. Il sistema economico va cambiato dall'interno. Francesco alla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Stop allo sfruttamento e strapotere delle lobby. Anche lo Stato deve ripensarsi e sul caso Banca Italia, Gentiloni cerca di ricucire, tregua con il PD. Un ruolo a Draghi spetterà nella scelta. Il secolo d'Italia. Banche, amore sinistro, con la foto di Maria Elena Boschi. In primo piano le altre notizie. Sesso, coca e festini hot nell'albergo dei migranti. Un giorno a Camaiore, un altro a Roseto degli Abruzzi. Il Felicioni. La struttura in provincia di Teramo sembrava un residence qualunque, ma si è rivelato una copertura. Dunque, come vedete, riguarda anche la nostra regione. Era il luogo dei festini di droga e sesso con minorenni. È il luogo scelto per lo sballo. Una bella struttura. Fronte mare con piscina. Altre notizie. Banca Italia serve inchiesta. Rampelli sì alla Commissione. Berlusconi torna in Confindustria. Noi siamo come degli eroi. Chiudiamo le prime pagine nazionali con la verità. Per il governo uno stupro vale 4.800 euro. Legge appena entrata in vigore con 12 anni di ritardo. L'Italia si adegua alle norme europee sui risarcimento alle vittime di delitti compiuti da nullatenenti. Ma le cifre stanziate sono ridicole. 7.200 euro per un omicidio. Una donna resa vedova da quattro clandestini dice assurdo. Si resta senza parole. Le parole invece di Roberto Maroni. Il referendum non è mio ma dei Lombardi. Domani votate in tanti e avremo il potere. A Como, il rogo dei bambini bruciati dal loro papà, originario del Marocco, senza lavoro, dà fuoco alla sua casa a Como, con quattro figli tra i tre e gli 11 anni. In basso i VIP per dimagrire bevono caffè e burro frullati. La folle dieta californiana che sta per sbarcare in Italia. E chissà che qualcuno addirittura non la provi. Prima pagina di sport. Apriamo con la gazzetta dello sport, con quelli che la Rosea chiama giochi di potere. Napoli-Inter da primato. San Paolo alle 20.45. Fuga o sorpasso? I due strateghi studiano mosse e contromosse. Peraltro derby toscano ci sarà al San Paolo. Sarri contro Spalletti. Allora vediamo quali potrebbero essere i duelli. Insigne potrebbe farcele. Tre tenori contro Icardi. Poi Amsic-Vecino e Giorginio contro Borca-Valero. La battuta di ieri in conferenza stampa a Spalletti elogia Sarri. Forse fosse rimasto in banca sarebbe ministro dell'economia. L'intervista galante. Il gol dell'ultima vittoria in Tristan Napoli sarà durissima e Luciano si esalta. Partita da primato questa sera alle 20.45. Invece in casa Milan Montella e Albivio. Il club gli contesta troppi cambi col Genoa svolto obbligato. Oppure il tifo rosso-nero è preoccupato. Cala la fiducia nella dirigenza e anche nell'allenatore. Non vanno meglio le cose a Paolo Di Bala che viene definito come buio di bala. Giù di forma in Maxi Grane. Problemi con lo sponsor che fa causa. Ballano milioni. Ma la Juventus ovviamente. Ed è giusto che sia così. È tutta con lui. In basso altre notizie. Per esempio la notizia che riguarda l'estorsione. Miccoli condannato a tre anni e mezzo. Ricorderete Fabrizio Miccoli. E poi Formula 1, Vettel, altri guai, Verstappen e Red Bull. Rinnovo fino al 2020. Olimpiade invernale 2018. Fontana in Sud Corea. Sarà la porta bandiera. Dalla Gazzetta dello Sport vediamo l'apertura del Corriere. Scudetto al Napoli. Questo è il sondaggio di Nando Pagnoncelli. La maggioranza degli italiani crede alla svolta per il titolo. Gli azzurri sono davanti a tutti. Duello verità dunque. Questa sera l'Inter attacca la banda Sarri. Ore 20.45. Riflettori sul San Paolo di fronte. La prima contro la seconda. in basso in Serie B che oggi scende in campo. Il Bari vola con Bascia. Rimontato il Cittadella 4 a 2. Il nostro Fabio Grosso è secondo. A tu per tu invece. Marcheggiani, Lazio, modello di semplicità. E inzaghi ha talento. MotoGP dovizioso in penna. Sfida a Marquez alle 7. Di domani mattina. Tutto sport. Inventane un'altra Max. Ovviamente riferita a Max Allegri. Alla Juve serve l'ennesima intuizione vincente di Allegri. Per ritrovare slancio come il passaggio al 4-2-3-1 la scorsa stagione o la sostituzione di Sturaro. Con Douglas Costa contro lo Sporting. Ecco cosa sta preparando il tecnico. In alto. Occhio Napoli. Spalletti sa come si fa. Stasera scontro contro l'Inter per il primato. Di spalla. Crippa. Gli Aic alla Mertens. E De Silvestri doppia Putin. Milan. Ultimo appello per Montella. Tre i candidati per sostituirlo. In basso. Allenamenti troppo pesanti. I giocatori sono contro Conte. Poi per la Formula 1. Ricciardo Vede Rosso. Le Ferrari sulle orme dell'Australiano. In Texas. Hamilton. Ok. Vettel in segue. L'Ital ciclo non tradisce. Europei di pista. La Valsecchia è di bronzo. Oggi Filippo Ganna e Balsamo. Per loro. Ci fermiamo per la pubblicità. Prima le previsioni del meteo. Poi rientriamo con la seconda parte di Mattino 6. Per entrare all'interno dei quotidiani. A tra poco. Ben ritrovati. Seconda parte di Mattino 6. Siamo pronti adesso per leggere i quotidiani della nostra regione. Sfogliandoli pagina per pagina. Iniziando dal centro e dalla pagina di Pescara. La maestra che apre ovviamente con la maestra arrestata. Pizzicchi e tirate di capelli ai bambini filmati in classe. Le lezioni dell'insegnante leggiamo spiate con una telecamera nascosta per giorni. Giovedì mattina l'intervento dei carabinieri che sono andati a prenderla a scuola. Leggiamo anche le indagini. Tra un po' vedremo anche il servizio. Le indagini per maltrattamenti sono scattate a fine settembre. Dopo l'esposto presentato dai genitori di un bambino della quinta elementare. A febbraio ci fu il caso di uno scappellotto dato a un alunno. Ma la vicenda finì con un chiarimento con la mamma che si rivolse anche alla preside. Queste sono immagini della conferenza stampa di ieri. Il tenente Antonio di Dalmazzi e il capitano Antonio Di Mauro durante la conferenza stampa di ieri. Che tra un po' ascolteremo. E le reazioni sull'altro fronte perché in tanti difendono la maestra dicendo è una persona seria, rabbia e stupore a Pianotti mentre la preside ordina ovviamente il silenzio. Profilo basso. Ma è una notizia che ritroviamo ovviamente in apertura di Pescara anche sul quotidiano. Il messaggero urla e pizzicotti i filmati che accusano la maestra, leggiamo, accusata di maltrattamenti. Era controllata con una telecamera nascosta dell'aula della scuola di Zanni. Giovedì un episodio più grave degli altri ha fatto scattare l'intervento dei carabinieri che l'hanno arrestata in flagrante. Il blitz in alto autorizzato dalla Procura sull'operato di rita giudizi contrastanti di genitori e di colleghi. Allora, vediamo anche nei particolari, in attesa dell'interrogatorio del GIP, si indaga per verificare anche eventuali episodi del passato. La sorpresa del quartiere è sempre stata brava e ha fatto molto per le famiglie dei suoi alunni. Queste le reazioni. Ma andiamo a vedere il servizio che riassume la vicenda. Le telecamere installate ci hanno consentito di appurare la veridicità di alcune segnalazioni pervenute. Segnalazioni che consistevano in alcune doglianze e lamentere di bambini che frequentavano la quinta elementare dell'istituto e quindi prima fase che è consistita appunto nell'accertamento di preliminari di rito finalizzati ad appurare la veridicità e fondatezza. Successivamente di concerto con l'autorità giudiziaria si è proceduti poi ad un monitoraggio tecnico dell'aula teatro dei fatti e quindi attraverso l'installazione di una telecamera fortunatamente occultata che ha consentito una vera e propria ambientale audio-video di riprendere e documentare quanto veniva svolto all'interno dell'aula. Comportamenti che in quei giorni di monitoraggio hanno permesso di appurare da parte degli investigatori condotte ripetute, abituali di pratiche di insegnamento che un po' travalicavano i limiti del cosiddetto use corrigendi andando poi a trascendere in atti vessatori consistenti anche in pizzicotti, strattonamenti e urla creando e ingenerando nei confronti di tutta l'aula e in particolare di alcuni bambini uno stato di tensione e di timore. Proprio per questo motivo l'attività tecnica ha consentito di appurare che si trattava di un reato proprio di maltattamenti che a norma del codice penale consiste in un reato abituale e quindi per la configurazione e perfezionamento della fattispecie necessita di una sequela di comportamenti atti analoghi. Il reato è quello di maltrattamenti. Le indagini sono partite da una segnalazione di alcuni bambini e genitori che sono state raccolte, verificate dagli investigatori e dalla polizia giudiziaria che poi messe a sistema con tutta una serie di accertamenti hanno poi condotto ad avviare un'attività tecnica specifica per appunto appurare se effettivamente si trattasse di un caso isolato o singolo piuttosto che una pratica diffusa. La messe è stata ovviamente non è stata prelevata, siamo entrati in aula, ovviamente il personale del nucleo operativo radiomobile che ha svolto le indagini, in abiti simulati ovviamente, quindi non uniforme, ovviamente con molto garbo e tratto, considerato anche la delicatezza della questione e la presenza di bambini, quindi di minori, è stata invitata a uscire fuori dall'aula, una volta fuori dall'aula abbiamo spiegato i motivi della nostra presenza lì ed è stata condotta presso i nostri uffici per gli accertamenti di rito. Continuiamo la lettura dei quotidiani rimanendo sul messaggero perché in basso alla pagina d'apertura vediamo una questione riguardo a furbetti del cartellino a pesche al bar durante il servizio l'ex maresciallo citato per 27 mila euro. Nel mirino della Corte dei Conti leggiamo il vigile urbano arrestato nel 2016 dopo le indagini delle fiamme gialle. Cambiamo pagina rimanendo sempre a Pescara, Guerino finalmente si riparte, da lunedì riprendono i lavori, si sblocca dopo 14 anni il restauro dello storico ristorante sulla Riviana Nord, una maratona per rispettare le scadenze e a centro pagina il premio, la virologa e la scrittrice donne esemplari. Ieri la consegna del nord-sud da Ilaria Capua e Kim Tui, narratrice dei popoli in fuga a Pescara, riaperto il parco delle buone azioni. Montesilvano, Maria Falcone alla cerimonia di inaugurazione dell'area verde intitolato al fratello e alla moglie Francesca, l'operazione finanziata dal comune, privati e persino alcuni calciatori del Pescara. Un esempio da esportare dice il primo cittadino di Montesilvano, Francesco Maragno, la sorella del giudice della cultura e la prima arma contro la mafia, incontro nelle scuole per il premio Educals. Cambiamo quotidiano, adesso torniamo sul centro. La regione no definitivo al cementificio, notificato alla vecchia e alla nuova proprietà l'avvio del procedimento di diniego alla richiesta di riaccensione dell'impianto. E sempre a Pescara sorpresi a caricare un mezzo rubato, sono stati denunciati da due agenti che in quel momento erano fuori servizio. In basso il premio Borsellino, giovani non rassegnatevi all'illegalità, il premio Borsellino accoglie gli studenti dell'alberghiero, dite no al bullismo e siate solidali tra di voi. Luminare di Natale, non siamo proprio a ridosso di Natale, però ci avviciniamo a rapidi passi anche a Porta Nuova e al porto turistico. Dunque luminare anche in altre due zone della città di Pescara, intesa con i commercianti dopo le proteste di un anno fa, resteranno accese dal 26 novembre al 21 gennaio, dunque tra poco più di un mese. L'incidente, camion resta incastrato sotto il ponte Risorgimento e vedete insomma le conseguenze di questa manovra che hanno portato questo camion ad incastrarsi. Sempre a Pescara, grandi manovre in comune, via al trasloco di sei dirigenti, la giura vara, la nuova macrostruttura. Le nomine entro la metà di novembre, Silveri perderà l'edilizia, la fino all'urbanistica, Zuccarini approderà ai contratti e addirittura c'è lo specchietto con il toto dirigenti, sono tanti insomma da, come vedete, c'è un'analisi molto dettagliata. In consiglio invece scontro sul piano regolatore, oltre 400 gli emendamenti di centrodestra e Movimento 5 Stelle, Confesercenti, va ripensato il piano del mercatino. E poi in basso, l'assessore Scotolati, l'impianto di via Campo di Giove rispetta la legge, quell'antenna non deve essere rimossa. La manifestazione, 15 mila ragazzi cercano la strada per costruirsi il futuro, successo il salone dello studente al porto turistico dedicato all'orientamento dopo aver preso il diploma. A Montesilvano la protesta, appello al sindaco e prefetto, stop alla musica sparata. Il comitato dei cittadini che abitano sulla riviera chiede un incontro urgente, basta con i decibel spacca timpani nei locali e la sosta selvaggia in strada. Di spalla, il comune stima il patrimonio, via l'inventario dei beni, il servizio affidato ad una ditta esterna in basso. A Spoltore, oggi la passeggiata verso Fonte Barco, via i corsi dell'università, sempre a Montesilvano, pittura e teatro delettale per la terza età. Città Sant'Angelo, la maggioranza si spacca sul caso della società rifiuti, scontro in consiglio sull'incarico di amministratore unico alla torre. La lista civica responsabilità comune minaccia di rivolgersi al Conte dei Conti. A centropagina è inaugurato il parco senza cancelli, via Cavallotti, la sorella di Falcone e Maragno consegnano l'area verde ai cittadini. A Francavilla, linee Enel potenziate stop ai blackout causati dal maltempo, piani di intervento con nuovi cavi interrati dopo le interruzioni di energia elettrica dello scorso inverno. L'ultimo caso, due settimane fa, quando un'acquazione ha lasciato senza luce parte del foro. A centropagina, autismo e socializzazione, esperto incontra i genitori. San Giovanni Teatino oggi e domani in comune. La tragedia di Rigopiano, con le parole del sindaco, che dice Farindola saprà ripartire. Intervista a Lacchetta, tra i primi sei indagati per il disastro, penso di aver contribuito a far emergere la verità. Per la politica, a Loreto, oggi il congresso, il Partito Democratico elegge il nuovo segretario. Centropagina, Gian Caterino, rimesso in libertà, inchiesta a Palti della Marsica, l'imprenditore pennese, ha collaborato con IPM. Cambiamo provincia, andiamo all'Aquila. Trasloco a Chieti, addio alle tre scuole di specializzazione. Università, il comune ratifica la fine per cardiologia, neurologia e pediatria. Il sindaco Biondi a battere campanilismi per riaverle e puntare al DEA2. E in basso la regione salva il premio Caniglia, sul Mona, stanziati 24 mila euro per il concorso lirico internazionale che rischiava di saltare. Cambiamo giornale e andiamo all'Aquila, sì, ma sul quotidiano il messaggero. Le scuole, si torna sempre sullo stesso argomento, ma in un'ottica diversa, le scuole di specializzazione non sono a rischio chiusura. L'elettrice Inverardi, accordo con Chieti per poter fornire prestazioni in sinergia. Ormai certo il salvataggio di pediatria non accreditate, neurologia e cardiologia in alto. Il dibattito sulla sanità, il comune prospetta una collaborazione tra Atenei per poter far sopravvivere 12 strutture. In di spalla, l'auto sfonda la protezione e finisce nel cantiere. Ecco l'auto che ha praticamente sfondato le barriere di protezione. E poi in basso, Preturo, centro di accoglienza per Casa Pound è inaccettabile, per esempio per la questione migranti, ancora questione migranti, Forza Italia e l'immigrazione più decoro. E sicurezza, sempre all'Aquila, da agosto erogati 125 milioni. Il sindaco Biondi, mi interessa che la gente torni a casa e partano i lavori del centro storico e delle periferie. I sindacati si preoccupano del problema della stabilizzazione del personale che viene impiegato nei vari uffici del post-sisma. A centropagina, sicurezza e stipendi, Olicar in sciopero, manifestazione davanti all'ospedale, alla protesta, hanno partecipato tutti i dipendenti. Otto ore di sciopero. In basso, Campo Imperatore e pista ciclabile invasi da una tonnellata di rifiuti. Il degrado, ASM e Alpine hanno rimosso bottiglie e buste di plastica. Ce ne erano veramente tante, come vedete. Andiamo nella Marsica. Gli avvocati respingono le accuse. Caso tribunale, il presidente Forgillo fu accompagnato al Ministero e anche altrove per tutelare la struttura. Se avesse avuto qualcosa da dire a Colucci avrebbe dovuto farlo di persona. No alla logica del gettare. Proprio ora la spugna. Questo sul questione del tribunale a rischio di chiusura di Avezzano. Sempre ad Avezzano parte rete solidale per le famiglie svantaggiate. In basso ci spostiamo a Sulmona. Infiltrazione in Drangheta. Scoppia il caso politico. L'opposizione con Di Rienzo ha chiesto la convocazione di un consiglio comunale. Evidentemente apposito. E poi per gli appalti Gian Caterino torna in libertà. L'imprenditore di penne. Sergio Gian Caterino. Andiamo a Chieti. Richieste sessuali su Facebook. Un giovane finisce in carcere. Stalking aggravato ad escamento online e sostituzione di persona. Ecco le accuse. Ha perseguitato per tre anni una tredicenne con 1670 messaggi. Minacce e molestie. Indagini della polizia postale. La ragazzina viveva nella paura. Non riusciva più a dormire la notte. Lo sfogo con la mamma. Vero storie incredibili. Il personaggio fratta una cenerentola dalla forte personalità. Il direttore d'orchestra. In basso. Rapina. Piazza di Biase. Assolti in secondo grado. Questa è la sentenza. Cambiamo pagina. Andiamo a Lanciano. Pestato durante le feste. Tre indagati denunciati dalla procura. Gli aggressori. L'ipotesi di reato. Lesioni. L'ipotesi di reato. Le indagini della polizia. La base. Motivi politici. E sfottò nel mirino un giovane colpito con violenza al viso e alla testa. Il ragazzo finì in pronto soccorso con dieci giorni di prognosi. Cambiamo provincia. Poi torneremo sul centro. Atria. Scattano altre 32 ore di sciopero. A proprietà internazionale della Kobe Capital ha detto no alla convocazione del tavolo presso il Ministero dello Sviluppo Economico. La trattativa sul congelamento dei 55 esuberi. Neanche partita. I sindacati proclamano un doppio picchetto per oggi e per domani. E per la viabilità lavori rete gas di Saggi per un'altra settimana. A centropagina guerra teatro Riccitelli al Palatenda. A Giulianova. Annunziata. La luce torna dopo un anno. Grazie all'intervento della ditta di Silvestro risolto il problema che teneva all'oscuro via di Vittorio. Sono stati cambiati anche i pali. Dietro fronti invece in via Nazario Sauro. Il dirigente Pirocchi blocca la riapertura al traffico smettendo la promessa del sindaco. Per la cronaca sempre a Giulianova. Nascondeva la droga sotto i tappetini della Vespa. preso in basso per la politica PD. Tensione continua. Spuntano 100 nuovi iscritti. A Civitella false assunzioni. Sentito il testimone chiave. Imputato l'ex vice sindaco Roberto Di Francesco e Francesco Aquilani. Revisore. Prima di tornare allo sport vediamo le altre province sul centro. Camera di commercio a Teramo. Ora Teramo vuole la sede. Lanciotti. Chiederemo ai colleghi Aquilani di ridiscutere l'accordo sulla fusione. Il presidente non rinnega le scelte fatte. Allora vigeva la norma che gli enti accorpati stessero nel capoluogo regionale. Solo poi si è privilegiato il numero delle imprese. La giunta camerale assicura che in ogni caso saranno mantenuti tutti i servizi sul territorio e contesta la riforma. Un pasticcio non condiviso è a rischio anche eventualmente di annullamento. Vediamo allora il servizio su questa vicenda. L'accordo raggiunto a gennaio 2017 dalle camere di commercio di Teramo e l'Aquila recependo alla lettera le indicazioni della legge Madia ha stabilito che la sede legale del nuovo ente camerale Gran Sasso d'Italia fosse situato nel capoluogo di regione con sede secondarie a Teramo. Il governo però con un recente decreto ha cambiato le carte in tavola stabilendo che la sede legale delle camere di commercio accorpate debba insistere sul territorio che ha il maggior numero di imprese e in questo caso sarebbe Teramo. Dunque è tutto da ridiscutere al più presto e anche se gli aquilani potranno far leva su un accordo già concluso la discussione porterà comunque nuovi vantaggi per la sede e per una leadership teramana. Che cosa risponde all'accusa che hanno scippato la camera di commercio a Teramo per portarla all'Aquila? Rispondo che noi abbiamo salvato una camera di Teramo da una possibile cancellazione della sede e quindi abbiamo anticipato un decreto che poi è stato cambiato in corso d'opera e nell'accordo che abbiamo fatto a novembre noi abbiamo messo in quell'accordo intanto che tutte le funzioni, tutto il personale, tutta l'organizzazione, le risorse che oggi la camera di Teramo ha rimarranno sul territorio e anzi vogliamo potenziarla lavorando insieme agli aquilani. E' una decisione che non si cambierà? No, non è detto questo, fermo restando che il decreto uscito dieci mesi dopo dalla nostra decisione, che cambia la prima impostazione del decreto su cui noi abbiamo lavorato, è evidente che noi ridiscuteremo con gli aquilani un'ipotesi di riorganizzazione del sistema camerale e nel contempo vedremo che entra all'accordo di metterci un giusto equilibrio tra i due territori. Per quanto riguarda il Presidente? Per quanto riguarda il Presidente sarà il nuovo consiglio camerale a decidere chi sarà, chi sarà la Giunta, chi saranno i consiglieri. Sarà frutto di un accordo tra i due territori, tra le associazioni imprenditoriali di Teramo e dell'Aquila, di CNA, Confindustria, Casa Artigiani, Confcommercio e quant'altro che come hanno sempre fatto in maniera intelligente e pragmatica decideranno la nuova governanza di un territorio credo uno dei più belli d'Italia. C'è poi un ultimo aspetto in questa intricata faccenda di accorpamenti tra Camere di Commercio. Se mai fossero accolti i ricorsi presentati da quattro regioni italiane sull'incostituzionalità della riforma camerale, allora tutto quello detto e fatto negli ultimi due anni sarebbe di colpo cancellato. Come dire, abbiamo scherzato. E la questione torna anche sul quotidiano, la città quotidiana della provincia di Teramo. Lanciotti dice che non abbiamo svenduto Teramo sulla riforma delle Camere di Commercio. Prendono i ricorsi di quattro regioni che, come avete sentito, potrebbero vanificare il decreto. Tra un po' torneremo anche sulla città per vedere meglio la provincia di Teramo, ma rimaniamo sul centro. D'Angelo Acchieti, sesso su Facebook, adesca le ragazzine, giovane arrestato, perseguita una minorenne per tre anni e pretende foto e incontri sessuali. Lei si confida con la madre e l'incubo finisce, ma si indaga su altri 20 casi. A centro pagina, Allegrino ricusa il giudice a troppa fretta. Il processo per i soldi spariti alla Conf Commercio istanza e l'ex presidente in corte d'appello. In basso, D'Angelo torna libero, ma è interdetto. Il sindaco di casa, Canditella, lascia i domiciliari dopo 23 giorni e attacca la procura. Mira, dice, alle mie dimissioni. Allora, visto che abbiamo aperto la parentesi legata alla provincia di Teramo, ci rimaniamo. Vediamo a Teramo, zona franca e arbonus. Ecco il Vademecum, ordine dei commercialisti e costruttori anci, assieme per ottimizzare sgravi e politiche della ricostruzione. Sempre a Teramo, reperti e guasti allungano il cantiere. Salta il crono programma per i lavori alla rete gas. In circonvallazione Spalato, trovati i resti delle mura rinascimentali realizzate in pietra di fiume. Non sarebbero, però, di particolare pregio. A San Nicolò, una nonna salvata dai vicini di casa, si accorgono dell'incendio e la portano in salvo. Poi la questione della stagione di prosa a Riccitelli. Ipotesi palasport per la stagione a Riccitelli. La guerra del cineteatro con ACS costringe il comune a correre ai ripari per garantire gli spettacoli. Per la politica a Giulianova. Gianluca Grimi passa con Fratelli d'Italia, l'ex assessore di Mastromauro e presidente di Asso Turismo. Va a rafforzare le fila di Giannonato Morra. Con Grimi il partito punta ad intercettare il mondo del commercio e della piccola. Imprenditoria. Ad Albadriatica, dunque, Val Vibrata, frontale sulla statale grave un 26enne incidente ieri mattina tra una Passat e una Lancia Y nei soccorsi per liberare il giovane dalle lamiere. È stato necessario aprire il tetto con le cesoie idrauliche. Sempre ad Albadriatica muore in un tugurio, funerali pagati da un imprenditore, donna senegalese trovata senza vita in una casa, senza luce, gas e acqua. A Giulianova, più vicino il recupero dell'ex tribunale, affidato l'incarico per la verifica sismica dei locali che potrebbero ospitare alcune scuole. E poi a centropagina, per la cronaca, nasconde la droga sotto il tappetino dello scooter. 39enne finisce in manette dopo il blitz della polizia stradale. All'annunziata. A Roseto, tassa di soggiorno. Porta in faccia dagli operatori turistici, albergatori e campeggiatori rosetani, consegnano un documento e rifiutano il dialogo anche sul regolamento. Le reazioni, gli amministratori, persa l'occasione di dialogare per il bene della città. Abbiamo adesso argomento. Iniziamo con lo sport, perché oggi si gioca, vedete, Pescara a Vellino. E allora, Zeman ci crede? Presto vedrete il mio calcio. Il tecnico dice, la squadra cresce, sono convinto che a breve ci saranno progressi. Leggiamo alcune parti delle parole di Zeman, che tra un po' riascolteremo. Sebastiani si accontenta dei risultati, ma il boemo chiede di più. Voglio punti attraverso il gioco. Gli Irpini, invece, segnano e subiscono tanti gol. Sono diversi da noi, dice Zeman. Puntano sull'agonismo e sulla forza. Delle punte, conferma, per l'undici schierato a Parma. L'unica novità in difesa, con Balzano, che dovrebbe giocare al posto di Mazzotta. Alle ore 15 serve un successo e un ex dirigente, giocatore del Pescara. Giorgio Repetto, ex Bagnera del Pescara, fa le carte al boemo. Delfino favorito, la rosa è da, il DS del Teramo, il doppio ex di Pescara-Avellino. Quella erpina è una buona squadra. Ma i biancazzurri sono più forti. Mancuso è come ceravolo. Pettinari? Lo volevo con me, dice Giorgio Repetto. Vediamo le formazioni. Probabili, ovviamente. Partiamo ovviamente dal Pescara, che dovrebbe confermare. Fiorillo tra i pali, linea 4, da destra a sinistra. Zampano, coda per Rotta, Balzano. Canutè sarà il costruttore di gioco. Brugman e Palazzi, le mezze ali. Tridente, Capone e Mancuso ai lati. Ancora una volta di Stefano Pettinari. Vediamo adesso in casa Avellino, 4-4-2, Radu tra i pali, linea 4 con Gaua, Kresic, Swager e Rizzato. D'Angelo e Di Tacchio in mezzo al campo con Laverone e Molina sulle fasce, Ardemagne e Asensio in attacco. Peraltro ieri nei due anticipi vediamo che cosa è successo con la vittoria della Cremonese, 2-0 contro il Brescia. Peraltro c'è stata anche la vittoria in serata del Bari per 4-2, eccolo qua, contro il Cittadella. Cambiamo quotidiano per vedere sempre le questioni in casa Pescara. Pescara prova a volare, questa è l'apertura dello sport del messaggero. All'Adriatico, ore 15, dicerna Lavellino con un successo. I biancazzurri possono avvicinare la vetta della classifica. Il tecnico, voglio tre punti, ma soprattutto la prestazione. Gans, la squadra, oggi non è ancora in grado di servirlo bene. Le parole di Novellino. K.O. nel derby, una macchia da cancellare. Queste le parole del tecnico dell'Avellino. Bovo a disposizione, out Koulibaly. E allora, andiamoci ad ascoltare le parole di Zdenek Zeman ieri in conferenza stampa. Vabbè, stanno rientrando tutti piano piano. Poi per ora Koulibaly non l'ho convocato, ma Zotassi anche perché differenza tra il ginocchio e la gola esiste. Su Gans, Gans è a disposizione. Aspetta lui come aspetto io. Ma io voglio ripetere il concetto. Per me Gans è attaccante ideale. Il problema è che bisogna inserirlo nel gioco della squadra. E per ora la squadra non gioca a quello che serve a lui. Ho detto dall'inizio che c'è due bravi portieri. Visto che per gli accelli non mi ha dato soddisfazione nell'impostazione, ho cambiato. Però è più per richiamarlo a quei errori che sta facendo. Spero che se si riposa li capirà. Vabbè, per me Avelino è una squadra difficile da affrontare. Nel senso che anche se vinceva quella partita erano in testa alla classifica. Vuol dire che finora hanno fatto dei risultati e delle prestazioni. Sicuramente è una squadra che gioca più sull'agonismo, sulla lotta. e cerca di sfruttare i due attaccanti che sono bravi sotto porta. Però non gioca come noi. I numeri sono quelli, ma gioca a calcio è diverso. Io ho un'idea su calcio, sul gioco di calcio. Cerco di costruire qualche cosa per dare non solo risultati, ma anche soddisfazione. E' per i giocatori e per la gente che viene a vederci. Ci dobbiamo aspettare che il turno avrà visto in queste tre partite? E vediamo come ne usciamo domani. Da ogni partita bisogna valutare. Se stanno tutti bene e se fanno bene, giocano quelli. E allora, oggi pomeriggio ovviamente Pescara in campo e ovviamente TV6 anche in campo con diretta stadio. A partire dalle 14.30 con i collegamenti dallo stadio Adriatico, poi il racconto della partita e le interviste in diretta post-gara. Domani invece si scende in campo in Serie C. Allora andiamo in casa Teramo. Rimanendo sul messaggero, Teramo tutti confermati a Sant'Arcangelo. Il tecnico Asta conferma in blocco gli 11 titolari che hanno battuto il Padova. Anche se potrebbe esserci Tulli al posto di Barbuti insieme a Foggia in attacco. Per delle questioni del Teramo vediamo anche il centro. Teramo, Tulli, Scalpita. Assumare in dubbio per Sant'Arcangelo. Nella rifinitura di oggi Asta sceglierà la formazione. Il doppio ex Valentini Biancorossi dice che sono favoriti in Romagna. Domani scende in campo la Serie D. L'Aquila perde Boldrini per il Francavilla. Bastese a Pesaro con il Rebus Stivaletta che non è al meglio della condizione. Per il basket Roseto scatta l'ora della vittoria. Marulli è recuperato. Di Paolo Antonio, il coach dei Rosetani, mette nel mirino Udine. Domani dobbiamo vincere. Coms e Ogid in crescita. Per il volley, oggi in campo la B. L'impavida ospita Gioia del Colle. Rugby, l'Aquila nella Tana di Perugia. Gran Sasso in trasferta a Roma. Ma la notizia, il caso che scuote il Delfino, calcio a 5, è questo. Mazzata, Pescara, Capuozzo positivo. Doping, il portiere Biancazzurro sospeso per Stano Zololo. L'acqua e sapone travolge l'Eboli e blinda il primo posto. Sicuramente sarà una notizia che farà molto discutere e che ritroviamo anche sul messaggero. Pescara, nuovo caso di doping. Trovato positivo il portiere Capuozzo. Il TNA lo sospende in maniera cautelare. Di spalla Roseto Baschett, ovviamente Marulli. Le parole di Marulli che dice serve assolutamente una svolta dopo un inizio non proprio esaltante. Chiudiamo con lo sport sul quotidiano La Città. Le questioni che riguardano il Teramo. L'unico dubbio per domani è in attacco. Formazione confermata. Davanti però la coppia formata da Foggia e dalla rientrante Tulli. In basso invece, palla a mano in campo la Lions Teramo, trasferta Toscana sul campo del Tavarnelle. Con questa notizia chiudiamo questa edizione di Mattino 6 che torna lunedì mattina, sempre puntuale alle ore 8. Io vi do appuntamento alle 14 con la prima edizione del telegiornale. E poi alle 14.30, non perdete, diretta a Stadio per seguire il pomeriggio insieme a Pescara Avellino. È tutto, buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.